Un break approssimativo per Infregi mentre all'interno Halvet è quello più sollecito e prende immediatamente il comando delle operazioni. Al secondo posto Gingari poi Infregi che dopo un break poco brillante si riporta a stretto contatto. Al suo interno Younger Ears con vicino Grey Storm poi ancora a contatto si mantiene Supernoti e Giulia Le Stelle che invece avanza per le corsie larghe. Halvet in vantaggio in giubba giallo-nera, al suo esterno in bianco-rosso-verde galoppa Infregi, al terzo all'interno invece Gingari in giubba azzurra e gialla. Al quarto posto il favorito Younger Ears con l'altra giubba bianca-rosso-verde nella cui scia galoppa in rosa Giulia Le Stelle. Poi ancora il grigio Grey Storm che lascia in ultima posizione Supernoti. In quest'ordine all'ingresso in retta d'arrivo è sempre Halvet ad indicare la via rispetto ai due più attesi adesso visto che oltre a Gingari muove anche in scia Younger Ears. Infregi che rimane a contatto per le vie larghe avendo sempre in scia Giulia Le Stelle. Poi ancora Grey Storm mentre per via interna è Supernoti che prova a riproporsi. Halvet in accelerazione rispetto a Gingari che è il primo che si propone all'attacco. Younger Ears che deve cercare gli spazi. Poi Supernoti a largo che provano a rimanere a contatto. Ai 400 Younger Ears cerca la difficile varca all'interno mentre Halvet e Gingari sono in aperta bagarre. Poi Supernoti e Giulia Le Stelle. Halvet che ancora legge l'evidenza su Younger Ears e che lo pungola per via interna. All'ultimo farlo non ho mai già passato. Younger Ears che passa su Halvet che prova ancora a tenere botta ma Younger Ears ha preso margine. Younger Ears che viene a concludere su Halvet. Al terzo posto ancora Gingari su Supernoti al quarto. Il ritorno a San Siro di Christian De Muro che colpisce con Younger Ears per la scuderia di oscuri ai colori. Stefano Botti al training da favorito in apertura di giornata rispetto a Halvet che fa il secondo e Gingari che fa il terzo.